buonasera buonasera e bentornati qui a casaficacci la ricetta di oggi è del rotolino di coniglio su crema di cavolfiore con acciughe capperi olive leccino gli ingredienti sono del coniglio disossato del cavolfiore precedentemente lessato quattro filetti di acciughe del peperoncino fresco capperi ficacci precedentemente dissalati dell'aglio del rosmarino fresco il nostro olio romeo del prosecco per sfumare chiaramente non possono mancare le nostre olive oggi useremo del leccino italiano un'oliva che proviene dalle regioni puglia e abruzzo come potete notare ha un colore cangiante marrone verde porpora dovuto proprio alla sua la porzione artigianale acqua e sale solamente acqua e sale volevo spendere altre due parole per questo prodotto perché il leccino è un degno sostituto delle famose olive taggiasche molto più economico ma dal gusto veramente unico vi consiglio di provarli potete trovare il leccino ficacci in salamoia e condito nei migliori supermercati iniziamo allora preparare la nostra ricetta mettere dell'olio del peperoncino fresco allora prendiamo il coniglio metteremo al suo interno un ramoscello di rosmarino fresco e l'arrotoliamo andremo adesso a legarlo con un po di spago e andiamo a mettere il nostro rotolino come potete notare il nostro coniglio si sta rosolando aggiungiamo il nostro leccino aggiungiamo i nostri filetti di acciuga sminuzziamo anche con le mani va bene così tanto l'acciuga si scioglie sfumiamo il tutto con un po del nostro rosecco aggiungiamo il nostro cappero che darà sempre un gusto amarognolo mettiamo il coperchio come avete potuto notare non è difficile arrotolare il coniglio basta che ve lo fate disossare dal vostro macellaio di fiducia e usate un semplice spago da cucina adesso con una ciotolina vado a togliere un po della nostra salsa peseremo per guarnire il piatto adesso aggiungiamo il nostro cavolfiore allora vedete che il coniglio è bello rosolato tolgo il nostro leccino ok il nostro coniglio è cotto sono passati circa una mezz'ora venti minuti andremo a togliere il nostro rotolino e prenderemo il nostro frullatore a immersione lasciamo il nostro rotolino in caldo andremo a creare la nostra salsa aggiungiamo un goccio di olio Romeo per renderla un po più meno densa la nostra salsa è pronta aggiungiamo il coniglio vedete com'è bello rosolato ok il nostro coniglio è cotto abbiamo tolto il nostro staco andremo adesso ad impiattare il tutto allora mettiamo sul fondo la nostra crema andiamo a mettere il nostro rotolino la nostra salsa che avevamo precedentemente tolto mettiamo un goccio di olio e il nostro piatto è pronto buon appetito e vi aspetto qui a Casa Figacci con altre deliziose ricette e adesso andiamo a mettere il nostro rotolino Grazie a tutti.